Overwatch è uno sparatutto che sta calamitando l'attenzione dell'intera community. Vuoi perché qualsiasi cosa porti il nome Blizzard ha sempre gli occhi del mondo addosso, vuoi perché quanto fatto visionare e fatto provare finora, diciamo che gronda passione da ogni poro, insomma Overwatch sicuramente manderà il visibilio ai fan degli FPS. In uscita nel corso del 2016 su PC, PlayStation 4 e Xbox One promette di riscrivere gran parte degli adagi dei moderni sparatutto in prima persona. Scopriamo insieme come. Overwatch è atteso su PC nei prossimi mesi e annunciato anche su console current gen. Blizzard confeziona un FPS brillante e splendidamente atipico, che lavora di cesello sul roster e sulle abilità di personaggi unici, in quanto a caratteristiche e strategie offensive e difensive. La versione beta ha mostrato nuove modalità e mappe e un ottimo bilanciamento complessivo. Overwatch esce dagli stereotipi. Grazie al set di personaggi, le partite sono diverse le une dalle altre, soprattutto dal punto di vista strategico. Il level design non lascia nulla al caso e varia in base alle necessità. Lo spettro di tattiche a disposizione è ampissimo ed è fondamentale conoscere nei minimi particolari le caratteristiche del proprio team e dei rivali. Overwatch si candida a divenire un vero must-have per i giocatori hardcore a caccia di scontri assolutamente originali. Dunque saranno più di 20 personaggi disponibili all'uscita, ognuno con caratteristiche precipue e in grado di comporre team davvero eterogeni che possono cambiare il ritmo della partita in qualsiasi momento. Uno spettacolo di gameplay ipercinetico ma profondamente ragionato. Conoscere alla perfezione i propri compagni, il proprio ruolo all'interno del team apre le porte ad una strategia davvero con pochi uguali. In origine pensato come free to play e in attesa di conoscere le ottimizzazioni su console, Overwatch sicuramente non deluderà le aspettative. Scommettiamo?